Preside Cimmino, questa mattina sopra al luogo con la città metropolitana qui ai Molini Marzoli, qui dovrebbe sorgere il nuovo istituto nautico, un sogno dunque che si realizzerà. Grazie al comune editore del Greco, ma soprattutto voglio fare un ringraziamento immediato, voglio porgere un ringraziamento immediato alla città metropolitana nella persona del sindaco Manfredi che in poco tempo ha subito preso in mano la situazione e sta cercando di realizzare questo sogno. Visto che io sono alla fine della mia carriera professionale, spero di vedere almeno l'inizio dei lavori in modo tale che possa essere tranquilla che i ragazzi hanno un porto sicuro dove potranno proseguire la loro attività scolastica in modo tranquillo e sereno. In attesa che questo progetto venga realizzato, adesso com'è la situazione dopo la notizia dello sfratto? Io sono sicura che i tempi tecnici per l'ASL saranno quelli di realizzare entro il 2026 questa struttura casa di comunità. Ciò non toglie che noi nel frattempo che iniziano il lavoro presso questa struttura, noi potremmo rimanere nell'ambito dell'istituto sempre in villa comunale e man mano che loro iniziano i lavori, noi potremmo contemporaneamente poi passare nel nuovo edificio che si va a realizzare per l'istituto nautico. Ci deve essere la volontà adesso di metterci al tavolino, realizzare tutto quello che è possibile realizzare in tempi brevi. È ovvio che la città metropolitana ha dato la propria disponibilità, il comune ha dato la propria disponibilità, noi siamo contenti di tutto questo perché riteniamo questa struttura idonea per i nostri ragazzi perché sono vicino alle altre attività legate al mare come la Capitaneria di Porto e quindi mi sembra la naturale collocazione di un istituto nautico proprio in questa sede. In definitiva dunque possiamo rassicurare sia gli studenti che le famiglie. Certamente, però io quello che ci tengo a dire è che dobbiamo rassicurare soprattutto le famiglie dei comuni limitrofi perché sono loro che stanno in crisi nel scrivere ai propri figli e quindi cercare di assecondare le loro vocazioni per l'istituto nautico in quanto sono timorosi di non avere poi una sede nell'ambito di Torre del Greco. Invece io voglio rassicurare tutti dicendo da Torre del Greco l'istituto nautico, mi ha confermato il sindaco Manfredi, non si muove da Torre del Greco e stiamo cercando tutte le soluzioni e stamattina è la dimostrazione per risolvere il problema. È nostra intenzione, soprattutto del sindaco Manfredi, trovare una soluzione adeguata e definitiva per l'istituto Colombo. Per cui stiamo venendo qui a verificare un po' lo stato di questi magazzini che nella loro volumetria e come struttura sicuramente sarebbero idonei al trasferimento dell'istituto. Le opere da farsi sono un po' tante. Quali sono i tempi? I tempi non sono brevi, cercheremo ovviamente di trovare una soluzione intermedia per l'istituto Colombo. Nel frattempo poi capiamo un attimo come attrezzarci per ristrutturare queste due strutture che ci sembrano idonee anche per la vicinanza al porto, per l'avvolgimento delle attività istituzionali dell'istituto Colombo. Quindi dal sopralluogo di questa mattina emerge sicuramente il dato che qui potrebbe sorgere la nuova scuola? Sicuramente sì. Sicuramente sì. Bisogna un attimo capire strutturalmente come è posta le due strutture che ci potrebbero interessare. Dopodiché dovremmo fare un progetto esecutivo. I finanziamenti ovviamente non è un problema perché l'amministrazione provinciale ha le risorse disponibili e accelereremo al massimo i tempi per trasferire qui il Colombo. Secondo lei qui quando potrebbero partire i lavori? Diciamo che nell'arco di un anno e mezzo potremmo cominciare a mettere mano proprio alla struttura. Però prima vanno fatto delle indagini sicuramente. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS